buongiorno buon 2021 la nostra amministrazione nell'anno 2020 si è dovuta concentrare sulla parte sociale diciamo perché con questo problema del covid abbiamo dovuto aiutare le famiglie in difficoltà abbiamo aiutato le aziende in difficoltà in particolare e oltretutto ci siamo concentrati pure sulla scuola quindi abbiamo fatto i tamboni a tutti i bambini abbiamo comprato il computer per tutti in modo da dare la possibilità di seguire da casa anche le lezioni per questo 2021 invece ripartiremo con tutte le attività con tutti i lavori pubblici che avevamo letteralmente sospeso in attesa che passasse questo covid siccome non basta abbiamo ripreso i lavori pubblici quindi ci siamo concentrati su tutti i lavori pubblici che avevamo programmato quindi partendo dalla porta di san francesco asfaldatura delle strade esterne sistemazione della viabilità interna sulla scuola in particolare dove ci teniamo in modo concreto e sostanziale stiamo rifacendo il giardino alla scuola dell'infanzia giardinetti pubblici e altri lavori che abbiamo programmato ma che sono in attesa di progettazione e gara di appaldo grazie